buongiorno a tutti e bentrovati a questo video tutorial dove andremo a vedere come compilare la domanda per i concorsi ordinari per gli insegnanti per i docenti della scuola primaria della scuola dell'infanzia e della scuola secondaria di primo e secondo grado sia per posti comuni sia per posti di sostegno una volta entrata nell'home page del sito del ministero dell'istituzione del merito una volta logati con lo speed scendete e andate alla voce approfondimenti vedi tutti gli approfondimenti cliccate ed entrate in una pagina dove ci sono tutti gli approfondimenti ma ci sono anche gli argomenti e i servizi ecco andate alla voce servizi online cliccate sopra e vedrete tutti i servizi catalogati per ordine alfabetico alla lettera p cliccando la lettera p oltre pago in rete che vi servirà per pagare la tassa dei servizi di segreteria del concorso c'è la piattaforma concorsi e procedure selettive quindi si clicca e si va al servizio si entra quindi nella lista delle istanze aperte disponibili dal da parte del ministero della dell'istruzione del merito questa procedura va dall'11 12 2023 e si chiuderà le 23 59 del 9 gennaio 24 il decreto ministeriale 205 del 2023 riguarda la scuola secondaria di primo e secondo grado posti comuni e posti sostegno per chi volesse invece compilare la domanda della dell'infanzia basta scendere e si vede che c'è il decreto ministeriale 206 del 2023 e si va a compila la domanda da questo link si entrerà a compilare la domanda per infanzia e primaria posti comuni e sostegno invece premendo il link superiore questo per la scuola secondaria di primo e secondo grado e quindi si entrerà nella compilazione della domanda seguiteci ancora nei nostri tutorial perché faremo immediatamente un tutorial per la compilazione della domanda della scuola secondaria di primo e secondo grado e poi ne faremo anche un altro per la compilazione della domanda per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria posti sostegno e posti comuni grazie